Buonasera a tutti, noi siamo i Baco Ensemble, ovvero gli invertiti. Vi presentiamo il nostro esperimento, il nostro esperimento viaggia storto tra il teatro, la narrazione e il rock alternativo. Quindi quello che sentirete non sono canzoni, sono effettivamente dei racconti, o meglio dei componimenti letterari, se vogliamo. Vi abbiamo chiamati i racconti oscuri, perché il tema è la paura, quindi speriamo, nonostante la calura, di farvi venire un brividino di paura. E andiamo a cuocere. Accordi secchi e tesi segnalano il tuo ingresso nella mia memoria. Se questi canali fermi portassero sangue, se fossero bene. Posso essere chiamata anche nel cuore della notte, anzi, quello è il momento in cui ho più da fare. Il buio sembra risvegliare istinti, che alla luce del sole appaiono sconveglienti. Il buio sembra risvegliare istinti, che alla luce del sole appaiono sconveglienti. Imperterrite, spattano la testa contro i lampioni. Amico mio, compagno di pepulte, di sangue in fondo a una strada buia. Il suo corpo, il suo corpo è radicino ai gabinetti. Monitorare attentamente il paziente. Monitorare attentamente il paziente. Monitorare attentamente il paziente. Backward Sound. Monitorare attentamente il paziente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. 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 Grazie.